D'accordo, Iguana, è solo il suono dello sfrigoglio di uovo sul ferro. Fallo, saltai con una mano. Lo sono quasi morta di un uccidente, il mio ragazzo è appena uscito dall'ospedale e Sasha mi ha portato via la verve. Cosa? Ah, e non ti senti lo sfrigoglio delle linee ad alta tensione? La uren porta sempre molta verve e personalità nei suoi esercizi. Sì, già. Papagallo blu, ho trovato il suo ragazzo. Mamma! Figliolo, ti presento Condor, Nandu, Fenicottero e gli uccelli. Non ci posso credere. Ne hanno gli uccelli paradisi. Ma certo. Non ci posso credere. Ne hanno gli uccelli paradisi tre. Ma certo. Ora ci prepariamo. Tu devi andare a scuola, ok? Torniamo a casa. Ok. Arrivederci, amici. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti